Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo video informativo giornaliero sul mondo di Call of Duty Vi ricordo domani sabato TG Tech con tutte le unità più interessanti della settimana Smartphone, tablet, chi più ne ha più ne mette a livello tecnologico Vi ricordo come sempre il mio canale di Telegram e di offerta Andatevi a iscrivervi tutti quanti, superiamo già i 400 iscritti Dove troverete una marea di offerte giornaliere per risparmiare una marea di soldi Anche quando dovete comprare su Amazon, passate da uno di questi link, cercate il prodotto e mi supporterete gratuitamente Mi raccomando, inoltre in descrizione troverete la mia collaborazione con Ebba.com Che invece vi permetterà di risparmiare tanti ma proprio tanti soldi Sull'acquisto dei videogiochi, sugli abbonamenti per giocare online Xbox e Playstation, sulle gift card Chi più ne ha più ne mette, guardate che prezzi veramente incredibili Ma partiamo perché volevo parlarvi un attimo della nuova modalità taglia Che molti di voi ragazzi non hanno notato nell'introduzione delle playlist dell'altra sera Modalità bounty completamente nuova all'interno del multiplayer di Modern Warfare 2 Modalità ragazzi che molti di voi sicuramente ricorderanno da Black Ops 4 Per chi non la conoscesse ragazzi e al multiplayer di MV2 consiglio vivamente di provarla Perché è veramente divertentissima Praticamente è una modalità Team Deathmatch classico Dove ovviamente però ci sarà la taglia sul giocatore che sta facendo in quel momento più kill Praticamente il giocatore verrà segnalato sulla mappa come accade praticamente con le taglie di Warzone 2.0 Quindi sarà facilmente individuare e sapere i suoi spostamenti, i suoi movimenti appunto sulla mappa E andandolo a killare ragazzi si otterranno i doppi punti nel conteggio appunto del Team Deathmatch Ovviamente ragazzi il giocatore che si becca la taglia non rimarrà segnalato per tutta la durata della partita Bensì ragazzi durerà ovviamente a tempo perché poi ovviamente ci sarà qualche altro giocatore che avrà superato nel frattempo in termini di kill il giocatore stesso E quindi la taglia ragazzi passerà spesse volte quindi sarà veramente molto divertente e molto frenetica gestire questa modalità Rimaniamo invece passiamo un attimo a parlare di Warzone 2 perché ieri ho voluto fare un sondaggio su una cosa che mi avete segnalato in tantissime Che hanno riportato anche sulla community di Reddit e ringrazio Sneaky appunto per la segnalazione Con l'occasione poi iscrivetevi sul mio canale Telegram per tutte le notizie di Call of Duty in tempo reale Perché durante questo periodo di festività c'è stata una grossa segnalazione di problemi relativamente al tab alla scheda giocatori recenti Quando praticamente termina una partita e vogliamo andare ad invitare un qualche giocatore italiano che abbiamo trovato Un qualche giocatore nuovo che abbiamo conosciuto nelle lobby che ne so random oppure abbiamo conosciuto tramite le chat di prossimità e via dicendo Non si può in alcuni casi andarli a beccare perché avete capito bene questo tab sta andando veramente a pazzie Sembrerebbe che in alcuni casi i giocatori recenti mostrino soltanto i player di due settimane prima Infatti ieri sera, ieri pomeriggio ho voluto fare un sondaggio nella mia community e il 68% mi conferma questo problema Mentre il 32% no Considerando che sul mio canale appunto di Telegram siamo quasi 29.000 iscritti vuol dire che il problema è veramente bello diffuso Fatemelo sapere come sempre anche qui community di youtube nei commenti appunto se avete riscontrato questo problema E che altri problemi appunto avete riscontrato in queste ultime ore Vi ricordo come sempre anche quello dello shadow ban di cui abbiamo parlato nella giornata di ieri Interessante una notizia ragazzi che è arrivata poi nell'ultime ore ve la faccio vedere direttamente dal mio canale di Telegram Poi parliamo un attimo della questione dell'udienza di Microsoft Sembrerebbe che sia in arrivo dopo le feste natalizie una patch di bilanciamento armi Si evocifra come i papabili soggetti appunto di questo bilanciamento armi L'RPK e il Fennec che sono praticamente in meta come sapete dal 16 di novembre dall'uscita di Almazara La mappa di Warzone 2.0 Lo stesso Mother Warzone ha detto siete pronti all'arrivo di una patch che cambierà i meta Quindi una dichiarazione ragazzi che non lascia scampa di interpretazione Quindi fa presagire l'arrivo di un nuovo bilanciamento armi in questo mese di gennaio Molto probabilmente quindi prima dell'arrivo della season 2 che vi ricordo è fissata per il primo febbraio del 2023 Ma parliamo di un argomento scottante la questione Activision e Microsoft Con i risultati della prima udienza preliminare Come sapete l'EFTC l'antitrust ha praticamente degli Stati Uniti Ha portato in tribunale Microsoft per la questione dell'acquisizione di Activision Come sapete lo scorso 3 di dicembre si è disputata la prima udienza preliminare Per il caso dell'acquisizione Microsoft Activision Quindi una prima introduzione su questa questione Perché è un argomento scottante? Perché Activision è proprietaria del franchise di Call of Duty Quindi Call of Duty se va in porta appunto questa acquisizione Diventerà indirettamente appunto acquistato e di proprietà di Microsoft Quindi gli orizzonti cambieranno radicalmente I legali della Microsoft vorrebbero trovare una soluzione nel più breve tempo possibile Attraverso la possibilità di emanare nuovi accordi tra le parti Ci sono però tuttavia grossi problemi tecnici che sono emersi dalla grossa attenzione mediatica sulla vicenda Infatti l'incontro si è tenuto in online quindi virtualmente Ed è stato letteralmente inondato da persone che volevano entrare come ospiti della call Chiedendo per un momento l'accesso delle informazioni agli avvocati di Microsoft e di Activision Emersi infatti fin da subito una poca freddezza da parte dell'FTC Che al momento non vorrebbe portare il caso presso una corte federale Quindi sembrerebbe ragazzi che si voglia andare incontro a Microsoft per trovare un accordo E perché da una parte abbiamo l'FTC che ha paura che questo accordo vada a minare la concorrenza In termini appunto del francese di Call of Duty perché hanno paura che poi Call of Duty e tutti gli altri brand di Activision Possano diventare appunto monomarca quindi monopiattaforma E dall'altro la Microsoft che più volte ha detto che l'FTC non deve pensare a tutelare la concorrenza Bensì deve tutelare appunto i consumatori e quindi se deve migliorare il servizio ben venga appunto questa cosa Inoltre ha proposto un contratto di 10 anni per portare Call of Duty su piattaforma Nintendo Altri 10 anni per supportarlo su Sony e su Steam E quindi da parte sua Microsoft non vuole al momento rendere ad esempio il francese di Call of Duty monopiattaforma Perché lo sa benissimo che andrebbe a perdere i soldi dato che grossa fanbase sa su PlayStation Quindi Microsoft ha riferito al giudice Michael Chappell Che dovrebbe arrivare molto presto un accordo con la Commissione Europea e il Regno Unito per l'approvazione dell'acquisizione Mentre per l'FTC sembra che stanno facendo di tutto per ritardare appunto questa procedura Argomento veramente bello scottante Argomento ragazzi su cui rimarremo con gli occhi puntati perché dobbiamo capire come andrà a finire questa vicenda Se si concluderà l'acquisizione, in che modo si concluderà l'acquisizione, quali sarà il futuro di Activision E per noi che cosa accadrà al franchise di Call of Duty una volta che entrerà in possesso di Microsoft Sicuramente le cose miglioreranno e non poco a mio avviso indipendentemente che vada appunto su Xbox o su PlayStation Questo ragazzi era tutto quello che volevo dire il nuovo TG Code giornaliero sul mondo di Call of Duty Mi raccomando iscrivetevi al mio canale YouTube, canale delle offerte per supportarmi qui sotto con tutti gli sconti e quant'altro E noi ci vediamo invece domani con un appuntamento tecnologico con tutte le ultime notizie dal mondo degli smartphone e dal CES 2023 Grazie